La morte ci riguarda tutti. Il meglio che possiamo fare è affrontarla con forza e dignità. Chi è? Mi scusè? Non è mio padre. Abbiamo preso quello sbagliato. Gesù! Quando morì il padre di Daniel, vennero tutti a fare le condoglianze. Stiamo andando a un funerale, idiota! La famiglia. Sio Alfie, salve! Dov'eri finito? È tardi! Gli amici. Solo un po' nervoso. Perché vedrai mio padre? Prendi una di queste, ti calmerà. Vedo che ti sei portato il tuo amico. Sono desolato, bella bella. Gli ho dato del volume? Non ci hai abituato. E persino uno sconosciuto. Che diavolo è quello, per esempio? Non ne ho idea. Le ha mai parlato di me? Sono Peter. È molto lieto. Dal regista di In e Out, Frank Holtz. Il volume che hai dato a Simon non era in realtà volume. È una specie di intruglio allucinogeno. Perché ho delle mani così enormi? Raconteranno le loro storie. Mio padre era un uomo eccezionale. La barra si è mossa. C'è un uomo vivo là dentro! Condivideranno i loro sentimenti. Non puoi cancellare ciò che è stato. Justin, è stata una notte. Ho commesso un errore. Ero completamente ubriaca. Potevi essere un somato. Simon. Simon, stai bene? E sveleranno i loro segreti. Avrei un po' di foto che vorrei mostrarle. Che cosa è questa? Oh, Cristo! Dal 21 settembre si morirà dal ridere con... Io mi butto! Funeral party. Però è stato anche eccitante, no?